Fumata grigia nell'incontro di oggi Regione Campania per la nuova Ises di Eboli, che ha ottenuto la disponibilità dal tavolo dell'accreditamento, ma si deve risolvere la parte economica. È uscito che l'accreditamento per l'Ise, la nuova Ises, c'è. Il problema, come sapevamo noi, è dei soldi e ci sarà un inizio settembre. Oggi in Regione Campania ci sono stati passi determinanti per la nuova Ises. Si è sciolto l'arcano dell'accreditabilità del centro nuova Ises e nella riunione si è affermato più volte che non c'è nessuna procedura di sospensione dell'epoca dell'accreditamento. Il problema che ha la Regione ora è prettamente economica, è prettamente di budget. devono rivedere tutti i fabbisogni di prestazione dell'area salernitana e devono trovare nell'ambito di questa rivisitazione i fondi necessari per la copertura economica. Ci siamo aggiornati al 10 settembre su di un tavolo che deciderà una volta e per tutto l'esatto budget di assegnazione per il centro nuova Ises e l'inizio delle prestazioni sanitarie, della ripresa delle prestazioni sanitarie.